Ritorna a Forio il tradizionale carnevale di Monterone, uno dei più longevi d'Italia, giunto alla 102esima edizione. Si terrà nel pomeriggio di martedì 25 febbraio e il momento più importante sarà ovviamente quello della sfilata dei famosi carri allegorici. L'associazione folcloristica Monterone, presieduta da Antonio Mendella, organizzatrice dell'evento con il patrocinio del comune di Forio, oggi ha diramato il bando che indica le modalità di partecipazione dei carri e il regolamento applicato per la sfilata. Largo massimo 3 metri, lungo massimo 5. Il tema del carro dovrà essere di attualità o rappresentare momenti di storia o vita locale. Sono concessi più carri dallo stesso comune di provenienza e l'ordine di sfilata sarà stabilito come di consueto dal sorteggio. La sfilata si terrà lungo il Corso Francesco Regine a partire dalle ore 16 e le varie esibizioni dovranno durare al massimo 10 minuti. Al termine della sfilata sul Corso Francesco Regine, come da tradizione, arriverà da Monterone il Principe Carnevale, il quale farà poi ritorno proprio a Monterone insieme a tutti i carri. Ci sarà ovviamente una giuria che stabilirà la classifica e quindi i vincitori dei primi tre premi. Le domande di iscrizione dovranno pervenire presso il barbershop Franco e Bruno di Via Consortile a Forio. Cari allegorici, il Principe Carnevale con la sua banda, ma anche divertimento per bambini e intrattenimento e musica per gli adulti. Sarà festa grande a Monterone con i Personal e con Simone Schettino, quest'ultimo direttamente da Made in Sud. Per rendere la serata gustosa, la setta Sufaniello con a capo Satore Pompette Giuseppe Cutellese, nel ricordo dell'insostituibile Leonardo Polito, delizierà i presenti con pasta e fagioli e pappardelle al cinghiale, il tutto annaffiato da buon vino locale. A Darmanforti i collaboratori sempre presenti, capobanda Carmine Migliaccio, Giuseppe Mendella a Tettui. Il coordinamento artistico del maestro Gaetano Maschio e come da tradizione tutta la manifestazione inizierà con il Carnevale dei più piccoli che sarà presentato dai bravissimi Nello di Leva e Anna Castagna. Il Carnevale di Monterone rappresenta uno dei momenti più importanti e sentiti per la comunità foriana, il primo evento importante in attesa della Pasqua e dell'estate per poi arrivare alla fine dell'anno con gli eventi di Natale. E allora non resta che appuntarvi su agende cartacee ed elettroniche questo appuntamento. Il 25 febbraio non vi resta che partecipare al 102esimo Carnevale di Monterone con il vostro carro, le vostre maschere o semplicemente con il vostro entusiasmo. Sarà l'occasione per dimenticare almeno per un po' le difficoltà di tutti i giorni, esattamente ciò che facevano i contadini foriani ormai un secolo fa.